Ci avete fatto caso che le nostre fotografie di anno in anno diventano sempre più belle? Eh sì, perché abbiamo delle fotocamere che vengono costruite sempre meglio, quindi abbiamo dei sensori sempre più densi, con sempre più megapixel, quindi le foto sono più grandi, la gamma dinamica migliora, ci sono di piccoli miglioramenti anche nei colori. Però quello su cui ci soffermiamo oggi è la dimensione di queste immagini, perché essendo sempre più grandi pesano anche molto di più. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per lavoro e da abbastanza anni sto osservando questo fenomeno, che è un trend in costante aumento, ovvero il peso delle nostre immagini. Una cosa che secondo me è legittimo generi qualche preoccupazione, perché se io oggi faccio delle fotografie che pesano 20 mega, fra tre anni farò delle fotografie che peseranno 60 mega e così via, e quindi lo spazio di archiviazione è una risorsa preziosa che viene riempito sempre più in fretta, ma noi lo stiamo pagando quello spazio di archiviazione. Ecco che per questo motivo mi trovo a esplorare delle funzioni che ci sono già sulla maggior parte delle nostre fotocamere, funzioni che oggi vi mostro e con cui possiamo catturare le nostre immagini a una risoluzione scalata direttamente in macchina. Sì, esatto, avete capito bene. Noi abbiamo il nostro sensore che ci permette di catturare l'immagine a una data dimensione, ma abbiamo la possibilità di dire alla nostra macchina, una volta scattata la fotografia, salvami un file più piccolo, un file di risoluzione scalata. Questa è un'opzione molto interessante, andremo a esplorarla in un attimo, ma prima vi devo ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sulle prossime news, uscite o recensioni che porterò sul canale. Quelli che lo faranno subito avranno una probabilità dell'80% più bassa di finire lo spazio di archiviazione. Benissimo, entriamo nel menu della nostra fotocamera, in particolare io qui ho una Canon EOS, funziona, questo che vi faccio vedere oggi funziona su tutte le fotocamere Canon in mio possesso, però devo dire che la maggior parte dei competitor hanno un sistema simile, quindi su quasi tutte le macchine dovrebbe esistere un meccanismo di questo tipo. Nel momento in cui noi andiamo a impostare la nostra qualità, vedete io ho il menu della qualità fotografica e qui ho due possibilità, io posso andare a impostare un JPEG, JPEG intero, JPEG più piccolo eccetera eccetera, e vedete che cambiano i parametri, cambiano le dimensioni del file e cambia il peso del file e il numero totale di foto che posso immagazzinare. Stessa cosa si può fare con il RAW, noi abbiamo, ovviamente possiamo anche metterlo off, possiamo avere nessun RAW, oppure possiamo avere il RAW a qualità piena 20 megapixel, oppure possiamo avere l'M RAW da 11 megapixel, che è più piccolo, oppure l'S RAW da 5 megapixel. Perché tutto questo è interessante? Beh, chiaramente perché se io sto facendo delle foto a risoluzione piena, quindi 20 megapixel, queste foto saranno più belle, più grandi, e potrò farci anche più cose, ma peseranno molto di più. Ecco che può tornare utile in taluni contesti farci un ragionamento e dire ma tanto io so che queste immagini avranno un target di riferimento dove verranno utilizzate solamente in forma molto piccola. Se queste foto andranno esclusivamente su Instagram, forse non è necessario scattare a 20 megapixel, forse posso scattare a 11, forse posso addirittura scattare a 5. Parlando di Instagram vi assicuro, e vi lascio in card un video precedente in cui parlavamo di megapixel, se state lavorando per Instagram vi assicuro che 5 megapixel sono assolutamente sufficienti. A patto ovviamente di sapere quello che stiamo facendo, dobbiamo fare l'inquadratura giusta perché non potremo ritagliare in post-produzione. E questo è il grande rischio di ridurre la risoluzione nativa direttamente in camera. Infatti se noi catturiamo una fotografia con una camera da 20 o più megapixel, ma con l'M-ROW o l'S-ROW, quindi abbiamo scalato la risoluzione, non potremo recuperare le informazioni a cui abbiamo rinunciato in fase di scatto. Quella fotografia viene catturata con quella risoluzione e non sarà possibile recuperarla, perlomeno in macchina. Poi sarà possibile fare un up-sampling, ingigantirla con sistemi di intelligenza artificiale, chi più ne ha più ne metta, ma non è la stessa cosa. Le informazioni originali sono sostanzialmente perdute e se vogliamo replicare con una risoluzione maggiore dobbiamo ripetere l'intero scatto. Quindi questo è il problema di quest'opzione. Il vantaggio però, vantaggio in dubbio, è che noi possiamo di volta in volta scegliere, possiamo decidere se catturare le nostre immagini a risoluzione piena o se catturare le nostre immagini a risoluzione scalata. Questo secondo me deve farci riflettere in base a quello che stiamo facendo o prendere la decisione giusta. Se stiamo facendo qualcosa di irripetibile e qualcosa di unico, ma tutto sommato qualcosa che ci porta via pochi scatti, secondo me ha pienamente senso utilizzare il RAW a risoluzione piena. Se stiamo facendo un qualcosa dove vogliamo mantenere la possibilità di intervenire un pochino sulle immagini, ma sappiamo già che 20 megapixel non ci serviranno a niente, io non ci vedo niente di male nell'utilizzare l'MRAW o addirittura l'SRAW che sta per medium e small, suppongo. Non ci vedo niente di male, anche se dobbiamo ricordarci sempre una cosa, ovvero che questa funzione ha un prezzo, ovvero nel momento in cui noi scattiamo con una risoluzione diminuita stiamo anche rinunciando a un po' di informazioni. Non entro nell'ingegneristico perché non è il mio campo e non lo so neanche, però da test che ho effettuato io stesso e da test che ho visto di altri che confermano la mia teoria, è una teoria, non ho le carte in mano, però quello che ho potuto riscontrare è che non è esattamente uguale. Quindi scattare a risoluzione piena e scattare in MRAW non ti dà esattamente la stessa qualità. Quindi la foto non è semplicemente più piccola, ha anche perso qualcosina. Ha perso qualcosina in termini di recupero soprattutto, quindi nel momento in cui scattiamo a una risoluzione ridotta in MRAW o in SRAW, il recupero delle alte luci e delle ombre che possiamo fare non sarà altrettanto pervasivo piuttosto che se avessimo scattato a risoluzione piena. Questo può essere un problema, però è vero anche che dobbiamo considerarla comunque una risorsa. Abbiamo la possibilità di scattare con una risoluzione un pochettino ridotta. Quando utilizzare questa meravigliosa opzione? Quando non ci crea problemi. Quindi se stiamo facendo un qualcosa dove il recupero sarà minimo e dove sappiamo già che la risoluzione richiesta è più bassa di quella nativa della nostra fotocamera, ecco che possiamo utilizzare questa opzione secondo me molto tranquillamente. Nel mio caso specifico io ho messo molto a dura prova la mia strumentazione perché ho fatto delle foto di interni e credo che le farò ancora in futuro ho fatto delle foto di interni in MRAW per un motivo semplicissimo perché mi sono detto non è tanto l'archiviazione per me i problemi sono due il primo tornare a casa con delle fotografie pesantissime bracketing da 5 scatti quindi mi ritrovo magari con un lavoro per cui dovrò consegnare 40 foto però 40 foto devi fare 4 moltiplicato per 5 quindi io mi ritrovo con tantissime immagini e le devo post produrre e le devo unire per creare l'HDR. Questo procedimento mi porta via molto molto tempo perché è un procedimento lento la macchina ci mette tempo a fare questa cosa e mi dà fastidio mi dà tanto fastidio questa cosa. Ecco che per questo motivo ho provato a utilizzare l'MRAW devo dire che funziona quindi quello che ho riscontrato è che funziona per i miei scopi va bene quello che ho anche riscontrato però è che crea qualche problemino ve ne dico due il primo trattiene meno informazioni quindi nel momento in cui io sono convinto con un bracketing da 5 stop di portarmi a casa tutte le informazioni della mia scena ecco che quando vado a fare il merge e a unire le mie 5 foto mi rendo conto che le informazioni non bastano mi rendo conto che probabilmente avrei dovuto farne 7 di scatti vanificando quindi il fatto di aver usato l'MRAW quindi ho meno informazioni le mie fotografie vanno bene perché comunque sono HDR funzionano va bene così però mi rendo conto che se avessi scattato a risoluzione piena la gamma dinamica sarebbe stata superiore e quindi è un trade off bisogna decidere quando usarlo e quando no sapendo questa cosa un'altra cosa che ho notato e questo mi ha fatto stranire perché è una cosa che non mi aspettavo nel momento in cui io scatto ho un bilanciamento del bianco fatto in un certo modo che ho fatto in macchina quindi lo reputo corretto nel momento in cui vado a unire gli scatti questo bilanciamento del bianco sballa quindi io mi ritrovo un valore di bilanciamento del bianco che è come scattato però i colori che vedo effettivamente nella foto sono sballati quindi c'è stato uno shift nel bilanciamento del bianco cosa che scattando a risoluzione piena non mi era mai successo queste sono cose da tenere a mente perché sono problemi che possiamo avere secondo me quando scattiamo in risoluzione ridotta possiamo avere qualcosa che cambia il nostro flusso di lavoro può essere scombinato da qualcosa che va in maniera lievemente diversa e che può crearci dei problemi io per esempio ho dovuto ricolorare tutte le foto ho dovuto rifare il bilanciamento del bianco in post per tutte quante le foto cosa che è un po' seccante perché normalmente non lo faccio e queste due cose messe insieme fanno sì che io abbia da farci una bella pensata per domani quando dovrò fare un altro shooting di fotografia di interni ci devo fare una bella pensata se mi conviene scattare in mrow e quindi risparmiare peso e tempo di processazione oppure se mi conviene scattare a risoluzione piena e risparmiare tempo per ricolorare le immagini devo farci una bella pensata ma a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate voi fatemelo sapere qui sotto in un commento vi ricordo anche che spesso e volentieri io rispondo alle vostre domande con degli shorts verticali per cui iscrivetevi adesso in maniera tale che non ve li perdete detto questo amici io sono convinto che la tecnica fotografica e la tecnologia applicata alla fotografia ci porteranno sempre ulteriori e nuove soddisfazioni nel corso di questi giorni mesi e anni per cui rimaniamo tutti sintonizzati e aspettiamoci come sempre buone notizie io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao a tutti Grazie a tutti.